Buongiorno, buona domenica a tutti dalla redazione di La Sette, dunque Giulia è stata uccisa, è stata uccisa a coltellate, questo raccontano oggi i giornali con tutti i dubbi che ieri sono spariti quando sono arrivate le prime terribili certezze sul ritrovamento di quel corpo nel canalone del lago di Barchis. Oggi quasi tutti i giornali come vedrete aprono su questa notizia e pubblicano diversi dettagli, intanto su che fine ha fatto Filippo, sul perché il suo telefono risulti in qualche modo ancora collegato anche se spento e una serie di racconti e di impressioni sull'ennesimo femminicidio in Italia. Cominciamo a leggere i titoli dei quotidiani italiani, Giulia ucciso ha trovato il corpo per il Corriere della Sera, la sorella dice è stato il vostro bravo ragazzo, l'auto di Filippo per l'appunto è stata vista tra l'altro in carinzia, i genitori chiedono che si costituisca, non lo chiedono solo i genitori, anche gli inquirenti, è stata tarscinata in un dirupo al lago di Barchis, il piano sarebbe stato preparato nei dettagli, questo è quello che emerge dalle ultime risultanze delle indagini, Meloni si è fatta piena luce e Elie Schlein che dice uniti ora su una legge per le scuole, questo appello bipartisan della politica per una legge lo ritroveremo anche nella nostra pagina politica, non c'è solo questo ovviamente sui giornali, però l'altro argomento del giorno, sono i raid a Gaza contro due scuole e Biden che lancia un avvertimento ai coloni, Israele rafforza il suo attacco a sud, cosa c'è sotto l'ospedale? Sono due degli argomenti principali che troverete anche sugli altri giornali, adesso lo vedremo insieme a un altro paio di notizie. Ecco Repubblica con il massacro di Giulia in primo piano, si parla ovviamente di femminicidio anche in questo caso, l'ennesima in Italia, il corpo della giovane è trovato in fondo a un dirupo vicino al lago di Barchis, ha provato a difendersi, ucciso a coltellate, aveva gli stessi abiti del giorno della scomparsa, l'ex fidanzato tradito da una telecamera che si era in manutenzione quando si è riaccesa, ha restituito l'immagine del passaggio della sua auto, ora è caccia all'uomo che è ancora in fuga, la procura chiede che si consegni, Maurizio Molinari oggi nel suo editoriale parla del conflitto tra Stati Uniti e Iran, un conflitto che si combatte all'ombra di Gaza, poi c'è spazio anche per il turismo spaziale in questa fotonotizia a centropagina per il razzo di Elon Musk che parte ma esplode in volo. La prima del messaggero, cronaca in primo piano, Giulia la morte nel dirupo per il quotidiano di Martinelli, l'ex fidanzato in fuga con attrezzature da montagna, questo è un dettaglio che trovate su qualche giornale, in più a quanto pare si era preparato un kit per la sopravvivenza e lo leggeremo durante il nostro approfondimento, l'ipotesi è quella a questo punto della premeditazione, c'è anche l'economia in primo piano, in taglio centrale sul messaggero, manovra dopo Mudis, riviste Sanità e pensioni, dopo l'ok delle agenzie di rating, adesso le correzioni del governo e sugli statali invece il taglio del cuneo che viene neutralizzato dai rinnovi. C'è tantissimo spazio per Yannick Sinner sui giornali, ne prendiamo una di foto, poi vedremo anche quello sportivo, immenso Sinner, una finale nella storia alle ATP Finals con Matt Biede che viene sconfitto in 3-7 e oggi la finale alle 18 con Djokovic già battuto peraltro durante le ATP Finals. Tutti i consiglieranno anche sulla stampa, il quotidiano della città che ospita gli ATP Finals, anche se l'apertura come vedete è destinata ancora alla cronaca, coltellata alla schiena, subito una legge bipartisan, ritrovato il corpo in un canale, la sorella dice è stato il vostro bravo ragazzo in una sorta di lettera appello che diventerà un manifesto contro la violenza sulle donne. Trovato il corpo di Giulia, caccia a Filippo anche per il giornale di Alessandro Sallusti è il taglio alto, non è l'apertura perché la manovra economica è il primo piano del giornale. I conti tornano, la sinistra non, l'attacco politico alla sinistra dopo la promozione di Moody's, la finanza europea elogia Meloni, la contromanovra della CGL invece fa i conti in tasca al sindacato, oggi Sallusti costerebbe 87 miliardi, cioè una misura da default. Torniamo alla cronaca con il gazzettino che è il quotidiano della provincia di Venezia, Padova, che si è occupato dall'inizio di questo caso con qualche dettaglio sempre in più rispetto agli altri quotidiani, l'ultimo strazio giù nel dirupo all'apertura, il cadavere vicino al lago di Barchi si è lasciato rotolare per 50 metri con coltellate sul corpo e sul collo. Dalla foto che trovate al centro pagina, quella telecamera che si è riaccesa mostrando il passaggio dell'auto, gli ultimi avvistimenti di Filippo Turetta in Austria, quell'ombra scura al volante, ci racconta oggi il giornale, la lunga fuga dopo l'omicidio. Lasciamo il gazzettino ancora sul resto del Carlino a tutta pagina, Giulia uccisa a coltellate, questa è l'apertura di resto del Carlino, di quotidiano nazionale. Quest'oggi torniamo alla politica, invece sul Libero una tragedia buttata in politica, perché contro la Meloni, scrive oggi Mario Secchi, il PD usa anche Giulia, ha trovato il corpo della ragazza, si cerca l'ex fidanzato, la Schlein parla di patriarcato tossico e la Boldrini accusa la maggioranza, questa diciamo la notizia che ha fatto scaturire il titolo a metà tra la cronica e la politica da parte di Mario Secchi. Su domani la guerra di Landini è solo all'inizio, il patto delle piazze contro Meloni, scrive oggi Daniela Preziosi sul quotidiano, dopo lo scontro sullo sciopero generale, CGL e Will non si aspettavano l'attacco di Salvini, ora la strategia cambia, il confronto con il governo sarà più duro da PD e sindacati, due manifestazioni diverse, ma con lo stesso popolo che teme l'autoritarismo della destra. Da domani ci spostiamo sulla verità, sull'altra sponda politica di lettura delle notizie, con il quotidiano diretto da Maurizio Belpietro contro il decreto sicurezza, la sinistra giustifica i ladri. Parla oggi Maurizio Belpietro di tanta cagnara per norme di buonsenso, la stretta su furti recidive scatena i progressisti che di colpo scoprono il problema delle mamme delinquenti ignorate per anni, eppure ex ministri si riducono a spiegare i reati con la povertà. Dalla verità al fatto quotidiano, troviamo quest'oggi una esclusiva sul quotidiano di Travaglio, ve la leggeremo nella seconda parte, quando ci occuperemo della guerra tra Israele è che Hamas sono i cablogrammi segreti dei diplomatici dei due presidenti americani, Clinton e Obama. Gli Stati Uniti già 26 e 13 anni fa scrivevano Benjamin Netanyahu, favorisce Hamas con le sue condotte, il premier aiuta i terroristi contro i moderati, poi libera persino lo seico Yassin, lo ricorderete, e la cronaca stretta con la strage di sfollati nella scuola di Jabalia, soldati e armi americani a Israele tramite la Giordania, vi leggeremo questa esclusiva perché è molto interessante, il tema economico dal sole 24 ore di oggi in primo piano è l'allarme per le imprese con la crescita ferma come scrive il quotidiano e in taglio centrale un'altra notizia, case green, regole più morbide ma serviranno lavori su 5 milioni di edifici, era una storia che ha preoccupato per mesi gli italiani, questa direttiva europea sulle case green, l'accordo allunga i tempi per intervenire, il 43% degli immobili però finisce comunque sotto esame e parliamo di 5 milioni di case per l'appunto. Dall'avvenire nessun silenzio, qui cambiamo argomento e stiamo alle parole del Papa, l'incontro con i referenti dei servizi per la tutela dei minori della Chiesa italiana, nessun silenzio sulle atrocità commesse in certi casi da porporati o da prelati, il Papa insiste che gli abusi non possono essere occultati, vanno denunciati e cercata la verità per le piccole vittime, tre parole d'ordine rivolte alla comunità, custodire, ascoltare e curare. Il tempo di Roma si concentra invece ancora sul giudizio di Moody's, l'agenzia di reti che tutti temevano sull'Italia, ciao ne gufi, l'Italia va, dopo le agenzie di rating Standard & Poor's e Fitch arriva anche il parere positivo di Moody's, il paese corre, dice Salvini e il ministro Giorgetti, stiamo operando bene. E poi il razzo di Musk che esplode in orbita, un altro razzo che esplode in orbita, che dai là a Osho per la sua vignetta del giorno, sempre molto divertente. Dall'unità, la ribellione degli ebrei, la lettera di mille intellettuali, l'antisemitismo non si batte col genocidio. Questa prima pagina è, possiamo definirla così, un po' rappresentativa di tanti commenti che troviamo anche oggi sui giornali, che leggeremo sull'antisemitismo in giro per il mondo che sta crescendo, come e quando e come combattere questo fenomeno. Dall'unità, sul manifesto, solito titolo a effetto per raccontare in questo caso quella marcia, non solo dei parenti e dei nonni, come è stata ribattezzata all'inizio, ma di tanti che chiedono la liberazione degli ostaggi. Il fronte interno, quello israeliano, che chiedono la liberazione degli ostaggi a Netanyahu, la lunga marcia che arriverà di fronte alla residenza del primo ministro israeliano, partita da Gerusalemme, 60 chilometri per chiedere la liberazione di 239 ostaggi. Ultimo giornale, quello sportivo, abbiamo già visto il sorriso di Sinner su qualche quotidiano, lo riprendiamo anche dalla Gazzetta Sportiva al Gran Finale oggi a Torino per il ragazzo dei sogni. Qualche istante di pausa, torniamo con tutti gli altri giornali. Le 7.15, ben trovati, ripartiamo dalla cronaca e ripartiamo da questa infografica che pubblica oggi anche il Corriere della Sera per raccontarci la fuga di Filippo, il ragazzo che ormai sembra chiaro, ha ucciso la sua ex fidanzata Giulia e questo è il percorso che è stato fatto, che fine ha fatto Turetta. Varie tappe fotografate in qualche caso da quelle telecamere con il sistema Targa System che l'hanno sicuramente localizzato in alcuni suoi passaggi verso quel lago dove poi si sarebbe sbarazzato del corpo di Giulia e l'ultimo tratto, come vedete, verso l'estero sul quale sappiamo molto poco, sappiamo che sicuramente la sua auto era diretta in quella direzione ma fino a questo momento le tracce sembrano perdersi e qui comincia l'appello degli inquirenti e dei familiari a costituirsi. Da sette giorni è super ricercato, ricordiamo che su di lui pende un mandato di cattura internazionale, il piano, la montagna, quell'ultimo rifornimento a Cortina, accertato. Il benzinaio ha trovato le banconote sporche di sangue all'alba, è un dettaglio in più che racconta oggi il Corriere della Sera. Tra l'altro ieri si era diffuso questa notizia alimentando un giallo, il giallo del cellulare spento e dei messaggi consegnati era stata la stessa sorella di Giulia a dire che sono giorni che quando mando un messaggino WhatsApp al telefono di Filippo compare la doppia spunta grigia per chi utilizza WhatsApp, sa che significa quel messaggio da qualche parte è stato consegnato. L'esperto oggi spiega anche perché nel sequestrargli il PC gli inquirenti avevano verificato che Filippo usa la versione web, WhatsApp web, il programma che consente di collegare la piattaforma di messaggistica ad altri device. Dunque se Turetta usa altri device può contemporaneamente usarne fino a 4, fino a 4, quella doppia spunta compare proprio perché il messaggio viene notificato. Arriva uno di quei device anche se fisicamente lui il messaggio non l'ha mai aperto. Ferite da coltello al collo, siamo su un messaggero sul PC di Filippo, ricerche sul kit di sopravvivenza. È un altro dettaglio di questa storia che lascia immaginare come il delitto sia stato premeditato, e gli inquirenti lo sostengono da ieri. In serata infatti leggiamo su un messaggero è trapelato che su internet Filippo era solito fare ricerche su kit di sopravvivenza in alta quota e abbigliamento per escursioni in montagna, ma anche su itinerari estremi nel versante tirolese meridionale dell'Austria. È lì che ha cercato rifugio? Gli inquirenti che venerdì hanno perquisito l'abitazione in cui il giovane abita con i genitori, sequestrando PC, tablet e alcuni capi di abbigliamento, analizzano con attenzione ogni possibile pista, non escludendo neppure l'ipotesi estrema, ovvero che lo studente, preso dalla disperazione per ciò che ha fatto, possa aver messo in atto qualche gesto autolesionistico, cioè si sia sostanzialmente suicidato. Il dolore della famiglia è riassunto dalle parole della sorella, che ieri si è sfogata, ha pubblicato questa foto per ricordarla. Ecco il vostro bravo ragazzo, è stato lui, ma poi scrive un messaggio destinato alla sorella, che diventerà una sorta di manifesto contro i femminicidi. Per favore, prendi di cura tutte le donne della tua vita, soprattutto rendi gli uomini responsabili, scrive la sorella. Rendi responsabile quell'amico che fa sempre battute inappropriate, quello che tratta le donne come oggetti, quello che è così dannatamente possessivo con la sua ragazza, che non le permette di fare nulla senza il suo permesso. Parla con loro, spiega loro che noi, noi donne, siamo reali, meritiamo di vivere una vita libera, libera tanto quanto loro. Questo è il messaggio struggente alla sorella, che assomiglia molto alle parole di esperti che in questi giorni hanno analizzato la situazione, e psicoterapeuti. Ne prendiamo uno da pagina 5 di Repubblica. Pellai dice che a 20 anni si può uccidere se si è analfabeti di sentimenti. Alla domanda, infatti, come è possibile che quello che i suoi conoscenti riscrivivano come un bravo ragazzo, mai strano, avesse mania di controllo, comportamenti violenti, fino a uccidere? Può succedere? Ci troviamo davanti a una tremenda debolezza nel percorso di individuazione. Dentro a questi copioni di bravissimo ragazzo obbediente, non si è costruita quell'autonomia e quella competenza di sé che ci fa capire chi siamo. Tanto che un ragazzo può pensare di essere se stesso solo se legato a un'altra persona. Si tratta di analfabetismo emotivo. I primi veri dolori che per un adolescente possono essere la ragazza che ti lascia. Non si sa come maneggiarli. Questo è il parere di un esperto. Se ne è parlato tanto in questi giorni, tanto che anche la politica si è mossa e siamo sulla stampa con Ellie Schlein che ieri ha proposto una legge bipartisan contro questa mattanza di donne. Gli ha risposto il ministro Valditara. C'è già un piano, lo stiamo preparando. A breve sarà pronto per la scuola. Un appello della segretaria Dem a superare anche le divisioni politiche puntando sull'istruzione sulla quale siamo tutti d'accordo bisogna investire di più. Un dramma inconcepibile, ha detto anche Giorgia Meloni. E tra poco parleremo di politica. Ma c'è un altro caso di cronaca prima di lasciare il messaggero. E' quello che ieri si è verificato in Calabria perché è un altro mistero che andrà chiarito. L'agguato della dottoressa alla dottoressa in stile drangheta. Un mistero, l'omicidio di questa guardia medica che vedete nella foto, che era a fine turno e che stava tornando a casa con il marito raggiunta dal killer che gli ha sparato a bruciapelo. L'obiettivo era sicuramente lei. Gli inquirenti escludono infatti lo scambio di persona. Il movente però rimane ancora un mistero. Non è sicuramente mafioso. Sempre da messaggero. Prendiamo un'altra notizia che vedete subito accanto perché è stato preso l'autista di quel camion killer che di fatto ha perso il carico di tralicci di impalcature sull'autostata uccidendo dei ragazzi. Era senza patente, è stato arrestato, era ubriaco e la patente gli era stata sospesa proprio per guida in stato debrezza. Dicevamo, passiamo alla politica. Il laccio da Eli Schlein per parlare di questo. Chiaramente ci sono tanti argomenti. Ve ne segnalo due o tre di oggi a parte quelli scontati. Grillo Conte la tregua e lo sfottò. L'avatar è più espressivo del vero. Il fondatore e il leader si sono incontrati. Vedete ieri l'abbraccio a questo evento sull'intelligenza artificiale. Un abbraccio dopo il gelo in vista dell'europea. Scrive Matteo Pucciarelli. L'avatar di Conte è più espressivo di quello vero. Non va bene così. Portiamo avanti due o tre idee. Due mie e del movimento. Ha detto ancora Beppe Grillo. Ma gli ha risposto anche per le rime in un certo senso ieri l'ex presidente del Consiglio. A Grillo do un consiglio. Quando va in televisione deve spiegare in anticipo che sta usando l'ironia. Però insomma è un comico. È chiaro che parla da comico. A meno che non sia il leader però di un movimento politico. Fratelli d'Italia intanto strappa con la Lega. Oggi Repubblica ci segnala anche questo caso. Esce dalla giunta Fugatti e stoppa il bis di Solinas. Succede a Trento dove i miloniani non ottengono la vicepresidenza e mollano in leghista. La rottura anche in Sardegna e tensione in Basilicata. Pure a Palermo è lite tra alleati. Questa maretta tra Fratelli d'Italia e Lega che questa volta scrive Antonio Fraschilla che questa volta fanno sul serio. C'è un sondaggio anche oggi sui giornali oggi di Alessandra Ghisleri lo prendiamo dalla stampa che si occupa dello sciopero perché è importante perché fotografa un certo malumore una certa stanchezza degli italiani in generale su questo tipo di manifestazioni. Lavoratori disoccupati elettori PD per 6 italiani su 10 lo sciopero non serve cresce la disillusione scrive Alessandra Ghisleri dei cittadini sulle mobilitazioni il 78% quasi 80 quasi 79 non si sente rappresentato dai sindacati alcuni sono scettici per il 37,3% il duello fra Landini e Sardini è solo uno scontro politico insomma per coalizioni per intenzioni di voto ognuno può farsi la sua idea leggendo questi dati e accanto anche il sondaggio sulle intenzioni di voto alle elezioni politiche un'ultima segnalazione la prendiamo da libero perché parla Carlo Cottarelli con una certa onestà intellettuale bisogna dirlo oggi molti giornali lamentano il fatto che la notizia della promozione di Moody's sia passata quasi sotto tono dopo tanto dopo tanto clamore e Carlo Cottarelli oggi dice l'Italia è stata promossa con l'Europa ci sarà una buona intesa l'economista ex senatore PD merito anche del governo se le agenzie di rating non ci declassano sul nuovo patto di stabilità però dice con altrettanta onestà che si tornerà alla proposta della commissione quello che mi preoccupa è il deficit e ovviamente preoccupa non solo lui ma un po' tutti andiamo a vedere cosa succede invece in Medio Oriente anche oggi ci sono moltissime cose da leggere sui giornali in merito alla guerra tra Israele e Hamas intanto dobbiamo fare un'operazione come i giorni scorsi dividere la striscia di Gaza in due settori non nord e sud ma sopra e sotto allora vi raccontiamo intanto il mondo di sotto cosa hanno trovato per l'assalto all'ospedale i militari israeliani in quei tunnel di Hamas Kalashnikov divise il mistero dei tunnel ce lo racconta Guido Olimpio sul Corriere della Sera l'inchiesta sulla presenza di Covid richiederà tempo le foto le abbiamo viste nei giorni scorsi abbiamo visto il materiale che è stato trovato per alcuni non è abbastanza per giustificare un'irruzione all'interno di una struttura ospedaliera gli ostaggi sicuramente non c'erano il mondo di sopra è raccontato nella pagina seguente sul Corriere della Sera ed è un racconto tremendo andrebbe letto tutto per modi di tempo non possiamo vi leggo solamente alcuni passi noi come zombie che camminano non c'è posto sicuro nella striscia parla Mohamed Rajab e dice sostanzialmente mai nella mia vita ho visto tante bombe cadere ma mai avrei creduto di sentirmi come un animale ci hanno ridotto a degli animali che puzzano non si lavano che hanno fame e litigano per un tozzo di pane ognuno di noi ha perso qualcuno non c'è niente da fare questa volta è diverso non li avevo mai visti bombardare un ospedale sembra che l'esercito stia giocando a un videogame noi siamo dei personaggi finti che scappano non esseri umani bombe sulle moschee le scuole le chiese credo che si sentano liberi di farlo perché qui non c'è nessuno che testimoni l'orrore di questo massacro non c'è la stampa internazionale indipendente ci sono i coraggiosi reporter di Gaza ma molti sono stati uccisi vogliono sentire che condanniamo Hamas condanniamo Hamas ci chiedono se per noi sono dei terroristi ok per noi sono dei terroristi ma come giustificherete l'uccisione dei nostri figli e dei civili innocenti Hamas non può essere la scusa di questa ingiustizia questa è in sintesi il pensiero di Mohammed Rajab come dicevamo intanto c'è ancora il sopra però che incombe la strage nella scuola rifugio il capo di Hamas è a sud oggi Raffaella Troilli su Messaggero ci racconta la guerra nella striscia con i progressi dell'esercito israeliano le bombe sul campo di Jabali ancora una volta decine di vittime e Biden che dice ho il cuore spezzato ma per il momento niente tregua e in merito alla quella marcia che sta portando verso casa di Benjamin Netanyahu oggi i familiari degli ostaggi dicono siamo pronti ad arrivare fino a Gaza in migliaia radunati a Gerusalemme siamo esasperati Netanyahu ieri si è fatto sentire ha detto il popolo vi è accanto ma intanto continua a frenare su un accordo per liberare alcuni prigionieri e poi il presidente americano che vi abbiamo già letto dicevamo di questa esclusiva oggi del fatto quotidiano in apertura eccoli qui i cablo esclusivi pubblicati dal giornale Bibi è un autolesionista fomenta Hamas vi leggo in sintesi cosa raccontano questi documenti le note dell'epoca Obama che sono state oggi declassificate sotto accusa c'è la linea di Israele che stronca le speranze dei palestinesi di isolare il movimento integralista se andiamo alla pagina successiva lì dove questi cablo eccoli qui vengono pubblicati c'è il riassunto anche del secondo importante documento Netanyahu rafforzò i terroristi già nel 97 liberando lo sceicco qui c'è il racconto specifico Hamas si è rafforzata scrivevano a quei tempi gli americani in seguito al tentativo israeliano di uccidere il 25 settembre da manni il capo del suo ufficio politico Khaled Meshall e alla successiva liberazione del suo fondatore lo sceicco Ahmed Yassin che vedete nella foto questi eventi però non hanno rappresentato un analogo rafforzamento su fronte del sostegno ad Arafat so capite il motivo della preoccupazione degli americani chiudiamo questa edicola oggi domenica alleggerendo un po' il tema o meglio alleggerendo con due notizie definiamole incredibili la prima la prendiamo dalla verità scrive Fabrizio Canoni i pedofili tedeschi che chiedono di legalizzare il sesso con i ragazzini incredibile petizione al Bundestag che da parte di un gruppo di attivisti bisogna abbassare l'età del consenso fino ai 12 anni chiedono ma c'è una notizia ancora più incredibile ed è il raduno dei terrapiattisti per una domenica diversa la prendiamo da Repubblica l'ora legale ci ha rubato mille anni negazionisti del covid adepti dello Shinsekai oggi al St. John per un pranzo carpo tecnico abbiamo rubato qualche secondo anche noi in realtà Fabio Angelicchio per le notizie del telegiornale Fabio ben trovato buongiorno grazie Marco certamente soprattutto quest'ultima notizia meritava un approfondimento scherziamo naturalmente perché abbiamo notizie ben più serie nel telegiornale a cominciare lo sapete dal ritrovamento del corpo di Giulia dopo una settimana purtroppo l'epilogo peggiore allora andremo a vedere proprio da Vigonovo dove si trova il nostro inviato Raniero Altavilla quali sono gli ultimi sviluppi perché ancora non ci sono notizie per quanto riguarda Filippo l'altro ragazzo c'è stato anche un appello da parte del procuratore di Venezia a costituirsi poi andremo a vedere ne hai ampiamente parlato tu nella rassegna stampa Marco anche qual è la situazione a Gaza ieri si è conclusa a Gerusalemme la marcia dei familiari degli ostaggi davanti all'abitazione del premier Netanyahu perché chiedono con insistenza giustamente la liberazione dei loro familiari la Casa Bianca poco fa ha fatto sapere che non c'è ancora un'intesa ma che si stanno impegnando molto su questo e poi ci sono anche notizie di sport oggi c'è la finale all'ATP Finals di Torino ancora un incredibile Sinner che affronterà Djokovic questo è molto altro ancora nel telegiornale ma adesso la linea va a Paolo Sottocorona con le previsioni del tempo noi ci vediamo tra poco Sì buongiorno questa è la situazione della giornata di oggi qualche nuvola al sud specie sul versante tirrenico al centro qualche debole pioggia che va a toccare in parte la Sardegna poi vedete le regioni che si affacciano sul Mar Ligure quindi la Liguria la Toscana specie la parte settentrionale ma sono fenomeni molto molto debole quindi un tempo che può essere appena incerto nella giornata di domani comincia a cambiare qualcosa perché ci sono fenomeni spesso deboli ma localmente sono anche moderati e queste riguardano la Toscana centro-settentrionale parte del Lazio Campania in parte la Calabria vedete che sull'Adriatico al di là abbiamo qualche sull'altro versante abbiamo anche qualche fenomeno intenso però poi il resto del nord insomma c'è una certa incertezza del tempo con qualche fenomeno degno di questo nome è però la strada vedete che va in una direzione arriviamo alla giornata di martedì e il maltempo si presenta non tanto al nord al di là delle Alpi si lo vedete ma poi va a prendere le regioni centrali anche con fenomeni intensi sull'Appennino centro-settentrionale quindi Toscana Umbria Marche più deboli i fenomeni ma almeno moderati lo sono sul versante tirrenico dove vedete il verde come al solito sono piogge molto deboli però qui si va a formare una zona di bassa pressione piuttosto attiva abbiamo visto ieri che le temperature scenderanno nel corso del fine settimana e il tempo ci indica proprio quella strada vediamo le minime di questa mattina sempre piuttosto basse ovunque anche al sud l'eccezione è proprio la Sardegna sud-occidentale se no siamo sotto i 10 gradi ovunque e dove vedete il verde chiaro siamo anche sul filo anche dei 5 o anche sotto i 5 gradi chiudiamo con lo stato dei mari che come si era intravisto ieri si stanno calmando i venti e di conseguenza i mari settentrionali quelli centrali canali fra le isole maggiori ancora mossi e poi lo Ionio tutto lo Ionio ancora con un moto ondoso molto forte il rosso indica un mare agitato se volete noi ci vediamo intorno alle 7.55 adesso pubblicità e poi la prima edizione del nostro telegiornale da più tardi grazie a tutti